Buonasera, tante notizie. Oggi cominciamo con l'epilogo dell'attacco, cominciato poco più di 24 ore fa ieri a Monaco di Baviera e che ha occupato l'intera edizione del telegiornale delle 20 di ieri. Era un killer solitario, questo si è capito. Il ragazzo che nella città tedesca ha ucciso in tutto nove persone, cinque ragazzi nel centro commerciale di Olimpia. Tutto da solo e poi si è suicidato. Non faceva parte di un commando terroristico, non era legato ad organizzazioni. E allora perché Ali Somboli, questo il nome del diciottenne tedesco di origine iraniana, perché ha colpito? Perché ha ucciso tante persone, appunto alcuni suoi coetanei. La polizia tedesca dopo la perquisizione riferisce che il ragazzo aveva un vero e proprio culto per Anders Breivik, il neonazista che colpì quasi cinque anni fa ad un raduno politico vicino Oslo, la strage di Utoia ammazzando 69 ragazzi. Somboli voleva rifare una cosa del genere. Anche in questo caso non è certa la polizia tedesca, anche perché c'è due elementi. Uno, Somboli era in terapia, seguiva una terapia per disturbi psichici e poi di questo parla in un video che vi abbiamo anche trasmesso proprio nella diretta di ieri sera. C'è quel colloquio tra un uomo che si rivolge al ragazzo che sta sul tetto del centro commerciale e lì Somboli dice sono stato bullizzato, mi hanno preso in giro i miei compagni, i miei coetani. Basta questo? Certo no, vedremo gli sviluppi delle indagini. Quel che è certo è che l'attacco di questo ragazzo al centro commerciale nel centro di Monaco ha bloccato un'intera città. Perché? Perché ormai c'è una vera e propria psicosi in Europa dopo quello che è successo a Parigi, Bruxelles, Nizza. In Europa e nel mondo ricorderete anche l'attacco a Dacca. L'Isis che ha colpito in questi casi, lo Stato Islamico, l'Isis che colpisce di nuovo in Afghanistan, a Kabul, attacco kamikaze, 80 i morti è successo oggi, oltre 200 i feriti, Stato Islamico che ha rivendicato questo attacco dicendo che nel mirino c'erano gli sciiti è radunati ad una manifestazione nella capitale dell'Afghanistan, minoranza sciita di etnia a Zara. Nel telegiornale parleremo, torneremo ad occuparci di Turchia perché la notizia di oggi è che è stato arrestato il nipote, uno dei nipoti di Fethullah Gulen, secondo Erdogan, la mente del colpo di Stato, del fallito colpo di Stato dello scorso 15 luglio, tra la notte tra venerdì e sabato. Erdogan che ha anche varato il decreto di emergenza, sono state chiuse diverse università e tante associazioni sindacali. Questo è quello che sta succedendo in Turchia, nel telegiornale parleremo anche di politica italiana, oggi c'è stata l'assemblea del Partito Democratico, è intervenuto anche il premier segretario Renzi, ha parlato del doppio ruolo, c'è stato uno scambio di battute con rappresentanti del Movimento 5 Stelle, ve lo racconteremo come vi racconteremo di un notizia rilevante di sport, calcio mercato, una di quelle notizie che superano poi i limiti di competenza, perché innanzitutto per il movimento economico. Gonzalo Higuain, campione, capocannoniere, recordman nella scorsa stagione di gol del Napoli, viene preso, acquistato dalla Juventus. Ma dicevamo anche davvero fenomeno di costume per quello che sta comportando nei rapporti tra le due società, tra le due città e tra le reazioni di tutti gli altri tifosi sconsolati, la Juventus è campione d'Italia, si rinforza in questo modo, c'è una depressione generale tra tutti gli altri tifosi di tutte le altre squadre, non solo del Napoli. Ne parleremo, cominciamo con il telegiornale tra 30 secondi, con i titoli. Per le autorità tedesche la sparatoria che ieri ha sconvolto Monaco di Baviera non ha una matrice terroristica. Il killer, un diciottenne di origine iraniana che si è suicidato dopo aver ucciso nove persone, era in terapia per disturbi psichici. Chiunque di noi poteva essere lì posso capire chi si sente insicuro, ma cerchiamo di garantire a tutti libertà e sicurezza, dice la cancelliera Angela Merkel. Ed è di almeno 80 morti e oltre 230 feriti. Lo spaventoso bilancio ancora provvisorio di un attentato a Kabul. Un kamikaze si è fatto esplodere durante una manifestazione di protesta della minoranza sciita contro il governo. L'attacco è stato rivendicato dallo Stato islamico. Arrestato in Turchia uno dei nipoti di Fethullah Gulen, l'ex imam in esilio negli Stati Uniti, accusato da Erdogan di essere la mente del fallito golpe. Ma il presidente turco non intende fermarsi nella rappresaglia e chiude migliaia di enti e di istituzioni, tra cui università e sindacati, accusati di avere legami con il suo grande rivale. L'emergenza internazionale al centro del vertice dei ministri delle finanze e dei banchieri centrali del G20 in Cina. Lo shock della Brexit è stato ben assorbito dai mercati, ma le conseguenze sono incerte, dice il ministro dell'economia Padoan, e non si sa quando sarà avviato il negoziato tra Gran Bretagna e l'Unione Europea. Dall'assemblea del Partito Democratico Matteo Renzi reclama un ruolo più importante per l'Italia e l'Europa. Basta con le foto a due. Merkel Hollande, dice il Premier, vogliamo essere protagonisti, annuncia per fine agosto un vertice con la cancelliera e il presidente francese sull'isola di Ventotene, simbolo dell'europeismo. Calcio mercato, colpo grosso della Juventus che avrebbe praticamente acquistato Gonzalo Higuain, il campione argentino del Napoli. I bianconeri sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria di quasi 95 milioni di euro. Sarebbe il trasferimento più costoso nella storia del calcio italiano. Intanto già monta la protesta dei tifosi del Napoli contro il presidente De Laurentiis. Buonasera, dunque un killer isolato. Alisson Bollier è un ragazzo di 18 anni, nato in Germania di origini iraniane, depresso per problemi con i suoi coetanei e per questo era in terapia. simpatizzante da quello che emerge del neonazista norvegese Anders Breivik, l'assassino dell'isola di Utoia, non era un seguace dello Stato islamico. Questo ci fa tirare un sospiro di sollievo. Somboli ha ucciso nove persone, cinque erano praticamente suoi coetanei. Un'azione folle che non ha legami con il terrorismo già vista. Ali Somboli, il 18enne tedesco di origini iraniane, che nel pomeriggio di ieri davanti al centro commerciale Olimpia Monaco di Baviera ha ucciso nove persone, aveva disturbi psichiatrici. La conferma è arrivata stamani dagli inquirenti. Nella strage sono rimaste ferite anche 27 persone e di queste 10 sono gravi. Delle vittime colpite a morte, delle quali tre donne, tre sono kossovari, tre turchi e uno greco e cinque di loro sono minorenni. Alla base del folle gesto è probabilmente la volontà di vendicarsi di atti di bullismo, di cui il killer, che era in cura e assumeva psicofarmaci, era stato vittima. La polizia ha escluso anche qualsiasi legame con il problema dei profughi. L'indagine dunque resterà a livello regionale, proprio perché nel corso delle perquisizioni nell'abitazione del 18enne non sono stati trovati riferimenti a organizzazioni terroristiche, ma cose che riguardano la polizia o elementi di rabbia nei confronti di studenti. Gli elementi rinvenuti in casa riconducono invece un interesse più generale per le stragi, in particolare quella ad opera di Anders Breivik, cinque anni fa a Utoia, in cui furono sterminate 69 persone e di cui ieri cadeva l'anniversario, e quella a Vinnenden nel 2009, dove un diciassettenne uccise 15 persone in una scuola e poi si suicidò durante la fuga. Epilogo a cui probabilmente si è ispirato Somboli che dopo l'azione si è a sua volta suicidato. La chiave dell'azione è in questo video girato da un testimone oculare. L'attentatore ha urlato in dialetto bavarese, sono tedesco, nato in Germania in un quartiere povero e abitato da persone con sussidio pubblico. Eppure quella di Somboli non è una storia di marginazione sociale. Frequentava la scuola e con la famiglia viveva in un quartiere piuttosto benestante della città. Il padre fa il tassista e la madre l'ha commessa nei grandi magazzini. Alcuni conoscenti lo hanno definito una persona un po' strana ma tranquilla. Fonti di stampa raccontano di un recente insuccesso scolastico e del desiderio di vendetta verso i coetanei. Prima dell'attentato aveva invitato proprio i compagni di scuola nel McDonald's davanti al quale ieri ha messo in atto la sparatoria. Per rendere più accattivante la proposta si era appropriato dell'identità del profilo Facebook di una ragazza di origini turche. E' stato questo ragazzo, Alisson Bolid, 18 anni, ha fatto tutto da solo. Questo però lo abbiamo capito solo a notte fonda. Per diverse ore la città di Monaco di Baviera è stata bloccata, ci sono state voci incontrollate, incontrollabili di altre sparatorie, è stata bloccata, bloccati i trasporti, fermata per un po' la metropolitana, i cittadini invitati a non uscire di casa. Voci alimentate da quello che usciva anche sui social network in tempo reale. In ogni caso, in difesa dell'operato, delle forze dell'ordine è intervenuta la cancelliera Angela Merkel. Comprendo chi adesso, dopo questo orribile attacco, dopo questa serata e questa notte di orrore, non si sente più sicuro e si domanda come fare a sentirsi di nuovo tale. Con queste parole Angela Merkel si rivolge alla Germania nell'incontro convocato dopo la tragica sparatoria di Monaco di Baviera. Oltre a esprimere il proprio cordoglio, la cancelliera rassicura che le indagini andranno avanti finché non si saprà esattamente che cosa ci sia dietro il gesto compiuto dal killer, in piena collaborazione tra le autorità bavaresi e il governo federale. Un impegno ribadito dal ministro dell'interno tedesco Thomas Levasier. Gli accertamenti sono in corso e vengono fatti con grande solerzia, rassicura lui che proprio due giorni prima della sparatoria di ieri a Monaco di Baviera aveva messo in guardia contro altri possibili attacchi da parte di lupi solitari in Germania. Parlando al paese, la cancelliera tedesca cerca poi di spegnere anche le critiche sulle forze di sicurezza, che non avrebbero capito immediatamente che cosa stava succedendo. Solo dopo molte ore di allarme e di inviti a non muoversi di casa, si è infatti capito che l'attentatore era uno solo e non c'erano complici in fuga come era sembrato all'inizio. Oggi Angela Merkel prova a rassicurare che Berlino farà di tutto per la sicurezza e la libertà di tutte le persone in Germania. In particolare ringrazia i cittadini che hanno sostenuto e collaborato con la polizia, aprendo loro le case. Nel suo discorso la Merkel ricorda anche le vittime della strage di Nizza di una settimana fa e ringrazia per i tanti messaggi di sostegno che sono arrivati dall'estero. La solidarietà arriva anche tra i popoli e noi, conclude, abbiamo molti amici. Quello che è successo a Monaco, l'ISIS ha provato ad intestarselo, poi abbiamo visto che in realtà era tutt'altro stato islamico che invece ha colpito, ha colpito duramente in Afghanistan, a Kabul, uno attentatore forse più dei kamikaze che si sono fatti saltare in aria, 80 i morti, oltre 200 i feriti sono sciiti dell'etnia a Zara. Coperti dal burka, i due kamikaze si sono fatti esplodere. Tra la folla, lo scoppio violentissimo ha provocato una strage a Kabul, 80 le vittime, più di 200 i feriti, ma il bilancio è ancora del tutto provvisorio. L'attentato, subito rivendicato dal sedicente stato islamico, ha colpito il quartiere di Demazhang, dove era in corso una manifestazione pacifica convocata principalmente dalla minoranza etnica degli a Zara, popolazione di origine persiana e fede musulmana sciita proveniente dall'Afghanistan centrale. Protestavano per la decisione governativa di escludere i loro insediamenti nella provincia di Baiman dal passaggio di un nuovo elettrodotto in costruzione. I nostri martiri combattenti hanno colpito gli apostati infedeli in Afghanistan, annuncia il comunicato diffuso dall'agenzia AMAC, principale canale di propaganda dell'ISIS. Da mesi ormai i gruppi jihadisti sunniti cercano di allargare l'area di influenza nel paese, colpendo indiscriminatamente una strategia che ha portato ad una tragica escalation degli attacchi mortali verso la popolazione civile, come ci spiega Valeria Minardi, amministratrice dell'ospedale di Emergency a Kabul. Sicuramente dall'inizio dell'anno, se ricordiamo i dati del nostro ospedale, i numeri delle persone, dei pazienti che abbiamo ricevuto, siamo intorno al 20% sopra rispetto ai pazienti ricevuti lo scorso anno ed è un continuo aumento. La quotidianità è che riceviamo sempre un sacco di pazienti. Noi sono ospedale qui a Kabul a 120 posti l'estero e negli ultimi mesi abbiamo una media di 300 missioni al mese. A complicare fortemente i soccorsi e l'arrivo delle ambulanze nelle strade del quartiere sono stati numerosi container utilizzati dalle forze di sicurezza afghane per sbarrare l'accesso al centro della città poco prima della rivendicazione dell'Isis. Un portavoce dei gruppi talebani aveva preso invece le distanze dall'attentato condannando apertamente l'azione jihadista. La rivalità tra le forze operanti in nome dello Stato Islamico e i gruppi dei Mujahedin per il controllo del territorio afghano è ormai sempre più aperta. In Turchia è in vigore il decreto d'emergenza avvalato da Erdogan e in vigore almeno per i prossimi tre mesi. Nel mirino sono finite tutte le istituzioni accusate di aver sostenuto di appoggiare le idee della rete politica di Fethullah Gulen. Il rivale politico di Erdogan è considerato dallo stesso presidente turco la mente del fallito colpo di Stato dello scorso 15 luglio. Sono state chiuse diverse università e sindacati. Nel pomeriggio la notizia che arriva, importante dalla Turchia, è quella dell'arresto di un nipote di Fethullah Gulen. La fede e il pugno di ferro. Il presidente Erdogan si mostra in televisione mentre riceve una coppia di sposi. Davvero padre della patria, regala alla donna un braccialetto d'oro. Auguri e figli maschi nella Turchia dove da oggi vigilo stato d'emergenza. Trenta giorni in carcere per un fermo di polizia senza la convalida del magistrato. E poi le solite purghe contro l'antourage del suo ex alleato, il clerico Fethullah Gulen che si è auto-esiliato in Pensilvania e che per Erdogan è stato il regista del colpo di Stato fallito la settimana scorsa. In dieci giorni Ankara presenterà a Washington un fascicolo con tutte le accuse di golpe e ne chiederà l'estradizione. Per il governo turco Gulen è più pericoloso di Osama Bin Laden e oggi il ministro agli affari europei si è lamentato che a distanza di otto giorni non ci sia stato un capo di Stato che abbia deciso di andare in Turchia in segno di solidarietà. Oggi a Esurum, nell'est, è stato arrestato un nipote di Gulen. È il primo della famiglia che finisce in carcere nel repulisti del regime turco contro le istituzioni vicine al religioso. Il governo ha ordinato la chiusura di più di mille scuole e dormitori studenteschi, 1229 enti benefici e fondazioni, 35 istituzioni mediche, 19 sindacati e 15 università. I professori universitari sospesi da 17 Atenei con accuse di legami con Gulen sono già 560. Andate in piazza, vigilate contro questo virus, questa malattia, continua a ripetere Erdogan soffiando sulla pancia del nazionalismo. La vendita delle bandiere turche non ha mai avuto così tanto successo. Lavoriamo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, solo la mia fabbrica ha già prodotto 6-700 mila bandiere e non riusciamo a soddisfare tutta la domanda, dice Onder Gyunai, un imprenditore di Istanbul. Rispetteremo i diritti umani, avverte il vicepremier Simsek al G20 in Cina. Sapremo distinguere fra chi ha reali responsabilità nel golpe e chi è stato coinvolto senza colpa, spiega un alto magistrato. Così oggi 1200 soldati detenuti sono stati rilasciati. I militari arrestati erano 7400. Fuori dalla prigione minorile di Maltepe ci sono i parenti dei cadetti. Sono ragazzi, hanno 14-15 anni. I loro comandanti li hanno mandati in piazza con armi scariche e li hanno fatto credere che era un'esercitazione. Implorano i parenti. Un commerciante d'abbigliamento di Sultanahmet, Istanbul, si lamenta nel suo negozio. La stagione turistica è già finita e non solo quella. È in corso una collaborazione tra la Procura di Roma e gli investigatori francesi che stanno indagando su possibili complici di Mohamed Bulel, il terrorista che ha ucciso 84 persone lo scorso 14 luglio a Nizza. Perché questa collaborazione? Perché ci sono quattro amici di Bulel che erano stati fermati insieme a lui a Ventimiglia mentre cercavano di entrare in Francia dall'Italia. E ora si sta cercando di capire chi sono e perché stavano insieme a Bulel in quell'occasione, se hanno mantenuto contatti. Oggi i funerali delle vittime italiane della strage di Nizza. Carla, Maria, Grazia e Mario. Oggi l'ultimo saluto nelle loro città dove è stata proclamata giornata di lutto. A Piasco, in provincia di Cuneo, direttamente da Nizza, nel pomeriggio è arrivato il feretro di Carla Gaveglio, 48 anni, la casalinga che faceva la volontaria alla Croce Rossa e che da quasi 20 anni trascorreva le vacanze in Costa Azzurra con la famiglia. A Milano, fiori rosa sulla bandiera italiana che avvolge la bara di Maria Grazia Ascoli, 77 anni, le cui eseguesi sono svolte nelle stesse ore in forma pubblica e sono seguite a quelle del novantenne Brianzolo milanese d'adozione Mario Casati, celebrate questa mattina in presenza anche del sindaco Giuseppe Sala. Mario e Maria Grazia a Nizza c'erano andati insieme e con loro c'era la coppia di amici pensionati di Voghera, Angelo D'Agostino, 71 anni, e la moglie Gianna Musette, di 68, i cui funerali sono stati celebrati ieri. I cinque italiani per quattro interminabili giorni erano stati dati per dispersi insieme al ragazzo italo-americano che studiava Berkeley, poi la conferma della loro morte. Intanto proseguono le indagini sui presunti complici di Mohamed Boulle, l'attentatore alla guida del tir che ha travolto uccidendo le 84 persone sulla promenade de Saint-Glaire. Insieme agli inquirenti francesi indaga anche la procura di Roma, che si concentra sui quattro amici di Boulle che con lui erano stati fermati un anno fa a 20 miglia, mentre dall'Italia entravano in Francia e dei quali si è persa ogni traccia. Si tratterebbe di due franco-tunisini e due marocchini che con regolare permesso di soggiorno si muovevano all'interno dell'Italia. Gli investigatori vogliono capire se i quattro hanno avuto anche contatti con il 37enne tunisino Shokrisha Froud finito in manette nei giorni scorsi per ordine del procuratore dell'antiterrorismo francese insieme ad altre quattro persone con l'accusa di aver partecipato all'organizzazione della strage. L'uomo negli anni scorsi ha vissuto in Italia e in Puglia tra Taranto e Gravina. Secondo gli inquirenti potrebbe essere addirittura il regista del blitz. Lo inchiude il suo DNA trovato sul lato passaggero del tiro usato da Boulle per compiere il massacro e quel messaggio inviato al profilo Facebook dell'attentatore in cui lo spronava a caricare il camion, riempirlo di ferro e spaccare i freni per scagliarsi con più feroce sulla folla. Clima di tensione generalizzato in Europa come in quasi tutto il mondo che sta avendo un peso sul G20 che è in corso in Cina. Minaccia terroristica, scenario internazionale instabile e aggravato dal tentativo di colpo di Stato in Turchia seguito dalla repressione di Erdogan, rischi al ribasso per l'economia globale e in questo scenario che si sta svolgendo a Chengdu nella Cina sud-occidentale il primo incontro dei ministri delle finanze e dei banchieri centrali dei paesi del G20 successivo al referendum che ha sancito l'addio all'Europa del Regno Unito. E proprio i possibili effetti della Brexit e del percorso che condurrà la Brexit stessa sulla crescita mondiale sono al centro della due giorni di incontri alla quale ovviamente sta partecipando anche il nostro ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, il quale dopo aver ricevuto un assist sul tema banche dal segretario generale dell'Ocse Angel Gurria, le sofferenze ci sono ma non sono un problema perché adesso sappiamo gestire questi processi, ha detto. Ha parlato, come del resto aveva fatto giovedì scorso Mario Draghi dopo la riunione del direttivo della Banca Centrale Europea, di reazione migliore del previsto da parte dei mercati all'esito inatteso del referendum britannico. Tuttavia ha aggiunto, le conseguenze di medio termine sono ancora poco chiare perché non si sa come e quando si instaurerà il processo negoziale tra Gran Bretagna ed Unione Europea. Incertezze da rimuovere il più velocemente possibile, ha ammonito il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, perché ha aggiunto lo stesso Fondo Monetario in una nota all'inizio del G20. Potrebbero ulteriormente ripercuotersi sul quadro di una crescita globale le cui stime, pochi giorni fa. Proprio l'organizzazione con sede a Washington ha tagliato sia per il 2016 che per il 2017 in conseguenza dell'esito della consultazione referendaria. Anche prima del voto l'economia mondiale stava rallentando per varie ragioni, ha spiegato Padoan, ma la Brexit ha dato un ulteriore elemento negativo. Dunque urge un quadro più definito sui prossimi passi da seguire, si legge nell'ultima bozza di comunicato finale circolata e occorre che il Regno Unito, nonostante l'addio, rimanga un partner stretto dell'Unione Europea. Più o meno quello che ha promesso il nuovo cancelliere dello scacchiere ed ex ministro degli esteri, Philip Hammond, che ha avuto un incontro definito amichevole con il ministro delle finanze tedesco, Schäuble. Di Brexit, di migranti, ma anche di terrorismo ha parlato oggi Matteo Renzi nella veste di segretario del Partito Democratico all'assemblea del suo partito appunto e in particolare ha annunciato un vertice a tre a fine agosto con Merkel e Sarkozy anche perché su certi problemi dice Renzi bisogna confrontarsi tutti insieme, non solo in due. Non ci sono più le foto a due che sorridono, si torna a ventotene, si torna a ventotene per ripartire con convinzione su un'Europa che sia l'Europa dei valori, degli ideali. È la direzione del PD dedicata all'Europa, le polemiche interne fuori della porta o rinviate a settembre sconsigliabili nell'estate delle grandi paure. Il Premier segretario si concentra sugli spazi di leadership possibili per l'Italia nell'Europa del dopo Brexit. Da completare in fretta dice Renzi che dal primo momento teme le ripercussioni economiche delle incertezze e dei tempi lunghi sui quali ha aperto spiragli Angela Merkel. Un incontro con la cancelliera tedesca e il presidente francese da tenersi a ventotene, luogo simbolo del sogno europeista nella seconda metà di agosto, è l'appuntamento politico con il quale il Premier vorrebbe certificare il peso dell'Italia, non più quella dei risolini del tempo per la verità ormai lontano del governo Berlusconi. Non manca la reiterata rivendicazione della flessibilità, breccia nel moloch dell'austerity dichiara Renzi e perfino di un ruolo nel salvataggio della Grecia l'anno passato, richiamo ripreso dal ministro Gentiloni che cita espressamente Siriza ed è più che attento al tema del recupero a sinistra. Il nemico, Renzi lo ha detto prima, a destinatare le minoranze almeno oggi e altrove. Sappiamo che abbiamo delle alternative in questo Paese, le abbiamo sempre avute. C'è un'alternativa grande che si chiama destra, che c'è ancora e guai a sottovalutarla, c'è un'alternativa che si chiama 5 stelle, ci sono alternative nei nostri territori, ma c'è soprattutto un progetto, quello nostro, che non può aver paura degli altri. Oggi era giusto concentrare l'attenzione e il confronto su qual è il futuro dell'Europa, il ruolo della sinistra. Punto di fondo per me non consegnare il popolo ai populisti e questo io credo sia particolarmente pericoloso in questi giorni, quindi è fondamentale una svolta sociale. Sapore di tregua accantonata alla questione della sostituzione dei vice segretari con Luca Lotti nel timore di scottarsi con il cerino dell'autoreferenzialità. Speranza accenna appena la questione legge elettorale, legandola alla necessità di contenere i 5 stelle, che non gradiscono il sarcasmo di Renzi sul sindaco di Torino, Chiara Pendino, che ha annunciato di voler limitare l'uso del wifi. Noi facciamo accordi con Amazon, Apple e Cisco, sottolinea Renzi. Risponde Di Maio su Facebook, invece di attaccare noi, Renzi pensi a lavorare. Diventa operativa la legge sulle unioni civili. Oggi la firma di Renzi nelle vesti di presidente del Consiglio, legge che diventa operativa con la pubblicazione in gazzetta ufficiale. Unioni civili adesso si parte. In molti si sono prenotati. C'è chi prepara le carte, chi prepara le partecipazioni. Già ad agosto persone dello stesso sesso potranno celebrare ufficialmente la loro unione. Con oggi la tanto discussa legge diventa davvero operativa. A due giorni dal parere favorevole del Consiglio di Stato, il Premier ha firmato il decreto, il Ministro della Giustizia l'ha controfirmato. Ora la pubblicazione in gazzetta ufficiale e poi si potrà fare anche in Italia. Coppie dello stesso sesso potranno di fatto sposarsi in comune davanti al sindaco o nel caso in cui il sindaco manifesti obiezione di coscienza davanti a un qualsiasi ufficiale di Stato civile. Due persone maggiorenni dello stesso sesso che vorranno legalizzare la loro unione dovranno fare richiesta all'ufficiale dello Stato civile del loro comune, di fronte a cui compariranno insieme a testimoni per la cosiddetta dichiarazione costitutiva dell'unione, una sorta di mini matrimonio. La coppia potrà optare per il regime della comunione o della separazione dei beni e indicare la scelta del cognome, uno stesso cognome, ottenerli entrambi. Sui documenti alla voce Stato civile potrà essere usata la formula unito civilmente o unita civilmente. In caso di separazione si torna dall'ufficiale di Stato civile che notifica lo scioglimento dell'unione. Nessun cenno nel decreto al delicato capitolo dei figli, su cui non c'è stato accordo tra le forze politiche, soddisfatte le associazioni degli omosessuali, una firma che cambia la vita, twitta il sottosegretario Ivan Scalfarotto, una firma storica, afferma la madrina della legge 76, Monica Cirinà. Comunque una riforma epocale, uno strappo rispetto al vecchio diritto di famiglia. Negli Stati Uniti, chiusa la convention repubblicana con l'investitura di Donald Trump, lunedì a Filadelfia inizia quella democratica che deve incoronare Hillary Clinton come sfidante di Trump alle elezioni per il nuovo presidente appunto novembre. Proprio oggi la Clinton su Twitter ha tra l'altro annunciato il suo candidato alla vicepresidenza, si tratta di Tim Kaine, un centrista, diciamo così, democratico, ma centrista molto distante dalle posizioni del grande rivale di Hillary Clinton nelle primarie Bernie Sanders invece più a sinistra. Kane è anche un senatore della Virginia e questo è importante perché la Virginia è uno degli stati in bilico che potrebbero il prossimo novembre decidere l'esito della sfida presidenziale. Ed ora una notizia di sport con una operazione di calciomercato destinata a entrare nella storia del campionato di Serie A. Gonzalo Higuain va al Juventus per una cifra record, ma non è solo questo, è come se in passato Maradona fosse andato da Napoli a Lioia o Platini al Napoli. Chissà se i tifosi napoletani dalla memoria più lunga andranno in galleria Umberto I a cercare sotto strati e strati di vernice la scritta Giuseppe Corengrato, il segno che marchiò l'alto tradimento di Giuseppe Altafini colpevole non solo di essere passato dal Napoli alla Juventus, ma soprattutto di avere, con questo gol in bianco e nero, deciso le sorti dello scudetto 75 a favore dei bianconeri nello scontro diretto. E chissà se la stessa sintesi partenopea riuscirà a condensare così bene anche il nuovo strappo di cuore, addio ormai certo di Gonzalo Higuain, argentino non più tanto innamorato. Di certo, oltre al sollievo dello stesso Altafini, che oggi si è detto rincuorato dal fatto di non essere considerato più lui il pugnalatore numero uno, c'è che il Pipita è ormai a meno di un passo dalla Juve. Perché all'epoca non c'erano i social, ma oggi nulla sfunge alla rete. E il tweet della cartella medica di Higuain, al termine delle visite mediche effettuate ieri per conto Juventus in quel di Madrid, dove il Pipita era volato dalla vacanziera Ibiza, è più che una traccia, è una prova. Così come, in controluce, è una conferma altrettanto evidente l'assordante silenzio di Massimiliano Allegri. Come se nel globalizzato terzo millennio, essere in torne in Australia, partita persa ai rigori dopo gol capolavoro del giovane Primavera Blanco, possa consentire di dire non so nulla di una doppia trattativa che muove complessivamente 200 milioni di euro. Da un lato quella su Mr. 36 gol a stagione, dall'altro quella su Paul Pogba, in corso nello stesso tempo a Miami, dove il francese è in vacanza a smaltire la delusione di Euro 2016. Trattativa quest'ultima con il Manchester United avanzatissima sulla base di 120 milioni di euro, e decisiva per portare i 94 milioni indispensabili a pagare la clausola rescissoria imposta dal padron dell'Aurentis. Gonzalo, insomma, sembra davvero pronto a diventare il core in grato del terzo millennio, anche se purtroppo la caustica ironia napoletana non sembra più venire troppo in soccorso come ai vecchi tempi. E se nel tradizionale presepe Higuain ha già cambiato casacca, la reazione dei tifosi rischia di degenerare. Violenti cori di protesta contro dell'Aurentis hanno accompagnato l'allenamento del Napoli nel ritiro in Trentino, mentre in città oggi è stata inscenata una protesta in pieno centro, con sventolio di bandiere del calciatore con le corna, foto stracciate, messaggi molto duri contro il giocatore. Si torna sull'attentato ieri, la strage a Monaco e il panico a Monaco di Baviera. In onda tra poco ospiti di Parenzo e Labbate, ci sono in studio Giancarlo Aragona e poi collegamento da Milano, Alessandra Ghisleri, da New York, Federico Rampini, da Savona, Carlo Freccero. Noi per eventuali aggiornamenti ci vediamo dopo la pubblicità. In studio con un velocissimo aggiornamento che arriva dalla polizia tedesca e chiude un po' il cerchio su quello che è successo ieri. L'attentato del giovane Somboli che ha ucciso a Monaco nove persone e, dice la polizia tedesca con comunicato ufficiale che si è suicidato davanti a Poliziotti. Questa versione elimina tante altre che pure erano girate accreditando altri scenari che a questo punto non hanno più senso. Con questo è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata.